la visione di san giovanni e questo accecamento momentaneo è un'altra immagine della poesia teologica che serve a potenziare l'idea dell'ascesi mistica perdendo ora la vista il poeta acquista più forza e capacità maggiore per sostenere il graduale ampliarsi della più alta visione beatrice potrebbe intervenire non interviene attende che la professione sulla carità sia completa per ridare al poeta accresciuta di vigore la vista temporaneamente smarrita poiché beatrice ha nello sguardo la virtù delle mani di anania e saulo ricuperò miracolosamente il senso del vedere per quell'imposizione solo per dono soprannaturale il poeta riguadagnerà la forza visiva con la figurazione della grazia e la crescita di capacità a sostenere la potentissima luce dante definisce la dottrina dei rapporti natura grazia e come sia stato possibile lui il compimento del disegno divino il paragone con san paolo non è occasionale come non lo è al principio del poema dante è consapevole di portare un messaggio la vocazione coincide con lo scopo del poema come detto nell'epistola can grande ma bisogno del silenzio interiore di quella notte misteriosa oscura che la mistica spiega come una necessità per la quale l'anima deve passare per giungere alla perfetta unione di amore con dio dante non può ricevere per mezzo della vista dall'esterno alcuna percezione rimane concentrato spiritualmente a assorto proteso nell'esame e nella professione della sua carità in questo canto dante tutto proteso verso la beatitudine per la virtù della speranza egli sentì in sé la forza a superare la prova della vita in cui aveva visto cadere le speranze umane con la morte di beatrice con la tragedia dell'esilio e lo smarrimento morale nella selva oscura per la speranza teologale ebbe la sicura convinzione nella restaurazione ultima delle cose vedute nella certezza escatologica non era solo speranza umana la sua quando cercava di leggere il futuro della chiesa dell'impero poiché il regno dell'uomo era possibile nella sua concezione per il profondo legame della vita eterna con la vita temporale essendo questa una preparazione a quella dante avvertì nel suo essere più di ogni altro la sua doppia condizione di esiliato come fiorentino per l'allontanamento forzato dalla sua città e come cristiano per il desiderio infinito della vera patria perciò il suo atteggiamento di fronte alla storia alla sua anima è quello del pellegrino e tutta la commedia è la vicenda di questo suo miracoloso arrivo alla vita eterna prima del termine della vita terrena la bibbia stessa presentava all'allighieri l'epoca della speranza il vecchio testamento in attesa del tempo messianico e l'epoca del nuovo testamento protesa verso l'escatologia